Lo scorso venerdì a Santa Arania, ridente con trada del comune di Caccuri, è stato inaugurato il campo sportivo polivalente, realizzato con fondi dell'Unione Europea e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, dedicato a Dodò Gabriele, bambino di 11 anni, che nel 2009 si trovava a giocare spensierato con dei compagni in un campetto di calcio, nella località Margherita di Crotone, quando veniva raggiunto fortuitamente da un colpo mortare di arma da fuoco. L'imponente opera, inaugurata alla presenza del sindaco di Caccuri, Marianna Caligiuri, e delle più alte autorità civili e militari del luogo, vice prefetto di Crotone, rappresentanza del comando provinciale dei carabinieri, della finanza, polizia, il dirigente scolastico dei prestiti di Caccuri, sorge proprio in un luogo detto Rinacchio, dove per generazioni i giovani di Santa Arania hanno trascorso ore felici nell'intrattenersi nel gioco del calcio. All'evento erano presenti i genitori di Dodò, che con viva commozione hanno ringraziato la comunità tutta per questo sentito omaggio alla memoria del loro bambino. Un'opera fortemente voluta dal sindaco di Caccuri, che dopo tante difficoltà e diversi anni di attesa, è riuscita a consegnare questa importante struttura ai giovani della cittadina, che potranno quindi utilizzare questo spazio per trascorrere il tempo libero, ma anche coltivare le proprie passioni, in un ambiente moderno e dotato di ogni comfort.